Oltre 2 milioni e mezzo solo per la città di Arezzo che vede finanziato il 100% dei progetti presentati sulla missione 5 del PNRR Inclusione e Coesione, premiati poi anche altri progetti dei comuni della zona con quello a retino che ha fatto da capofila. Queste le parole che non nascondono la soddisfazione del vice sindaco Lucia Tanti che prosegue. Arezzo è stata capace di cogliere l'occasione storica, solo in città arrivano oltre 2 milioni e mezzo di euro per le progettualità legate all'inclusione sociale, alla disabilità, alla protezione e all'accoglienza dei più fragili, al potenziamento e alla formazione degli assistenti sociali sempre più strategici nel far fronte alle nuove criticità. Questo finanziamento ci permette di completare quella rivoluzione copernicana dei servizi alla persona attraverso la riqualificazione che darà all'ex caserma Piave una nuova vita. È infatti proprio lì che prenderà forma la cittadella dell'accoglienza con servizi e opportunità, percorsi di inserimento e un ristoro solidare, grazie alla collaborazione con Caritas.